Sì, ci vuole una strategia e bisogna utilizzare al meglio le risorse che questo paese avrà, in particolar modo quelle del PNRR ma anche quelle ordinarie, e la strategia deve essere fatta di varie progettualità, a partire dall'aumento della capacità di stoccaggio e di invaso dell'acqua, sulla quale come Emilia Romagna abbiamo progetti, abbiamo idee, abbiamo richieste nei confronti del governo, pensiamo alla situazione della Valdenza tra Parma e Reggio, ma anche altre situazioni meritevoli di nuove infrastrutture per contenere l'acqua, dobbiamo continuare ad avere invasi aziendali, per questa ragione è proprio fuori un bando da 7 milioni di euro per le imprese agricole per invasare l'acqua fino a 250 mila metri cubi, ci siamo presi l'impegno che nel quinquennio 23-27 triplicheremo queste risorse, proprio perché abbiamo bisogno di diffondere il più possibile la raccolta dell'acqua, dobbiamo però anche lavorare sulle acque reflue, quindi costruire impianti di depurazione dell'acqua reflue, milioni di metri cubi che potrebbero diventare un grande valore inestimabile, com'è inestimabile appunto l'acqua. Bisogna però accelerare, io penso che questa fase di estrema siccità, questa emergenza della quale parla tutto il mondo, tutte le testate giornalistiche del mondo sono venute a vedere il Po in quella situazione catastrofica, senza acqua come non lo sei mai visto, debba però essere da monito per la classe dirigente di tutto il Paese, delle regioni e anche del governo. Il monito è questo, ci vogliono le infrastrutture irrigue, però ci vogliono le risorse, ci vuole la visione, ma ci vogliono anche procedure più semplici, più veloci per progettarle e per realizzarle. E poi ci vuole il coraggio di difendere le scelte che si prendono e che si fanno, quando si parla di un invaso, quando si parla di un impianto di depurazione dell'acquerefrio, quando si parla di investimenti o anche di impianti antibrina che servono a proteggere le produzioni frutticole e che hanno bisogno di acqua, bisogna assumersi la responsabilità e il coraggio di difendere le scelte politiche e di portarle avanti.